Non sto scherzando, Nani. Nani, dove siamo? Siamo chi vuoi la musica. Cosa vuoi? La musica. Perché? Devo cantare. Tanto? Sì. La musica. La musica. C'è tu qualcuno che mi può aiutare. La musica. L'unica cosa sa che ti può aiutare. Di me ti voglio. Ciao. Paiasso? Come se non è la cosa? 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 Grazie a tutti